Nuova puntata di Poetando, questa è la duecentesima e per festeggiarci e festeggiarvi l'abbiamo pensata e concepita in modo diverso, non ci sarà un ospite, non ci sarà un libro, ma ci sono i poeticanti che con la loro proposta ci porteranno nel mondo della poesia, quella italiana e non solo. Allora diamo il via a questa duecentesima puntata, buonasera intanto Roberta Turconi e Paolo Provasi, grazie per essere qui con noi e cominciamo a questo punto con Saffo.